A bici sportivi in visione all'ascolto di TV Prato, un cordiale saluto da Edoardo Novelli, riprese video di Tommaso Parri, la regia come sempre ad opera del nostro Paolo Innocenti. Cioli, Carfora, mentre adesso è andato al tiro in maniera molto pericolosa, Berti. Pagnotta, Pagnotta, il bel movimento in era di rigore, si porta il pallone sul sinistro, il tiro di Pagnotta, la ribattuta di Simone Verdi, il traversone al centro, allontanato di Pugno, un varco centrale per lui, si propone Ussia sulla sinistra, va al tiro, è un tiro interessante che è efficace su Mazzei, ma la palla ancora messa in mezzo, ottima! Adami si inginocchia, colpisce di testa ad anticipo su Alicontri, sul traversone dalla sinistra di Simone Giannelli, Di Leo si accentra, la conclusione smorzata, Adami in area, un rimpallo, la palla termina fuori! Simone Giannelli la mette sul secondo palo, rete, rete del Pontassieve sul Firenze-Ovest! Come ci è stato chiarito dopo una iniziale perplessità, e questo, il gol di Gabrielli, fissa il risultato sull'1-0 con cui si va al riposo. Il punteggio lo vedete, dalla sovripressione del nostro Paolo Innocenti, vede il Pontassieve in vantaggio per 1, rete a 0, la rete è stata segnata al 37esimo da Gabrielli di testa, Una incursione in profondità e raddoppia ancora lui, Gabrielli! ...dall'anticipo di Visibelli, termina poi a terra, Carnevale riconquista il pallone, la palla batte contro la bandierina ed sarà rimessa laterale. Torna in possesso del Pontassieve con Adami che sfugge a Carfora, imbucata di Adami per Pagnotta, Pagnotta riceve il Pontassieve, Pagnotta di fronte a Sessimo Leverdi, serve Di Leo, Di Leo su Adami, calcio di rigore per fallo di Nencioli. ...carica di tentarne la trasformazione, rincorsa breve, destro, parata, la palla in rete, tocca Carli ma non riesce a fermare la conclusione. Ha centrato, prova a liberare il sinistro, lo fa in area, una condizione di battere a rete la parata di Morandi. ...e proprio in questo istante l'arbitro sancisce la fine delle ostilità, pertanto la situazione, il risultato finale lo abbiamo ricordato e lo vedete in sovrimpressione, Pontassieve che ha battuto il Firenze Ovest per tre reti a zero, punteggio severo ma segnato dalle reti di Gabrielli al trentasettesimo nel primo tempo e al terzo della ripresa e dal rigore di Adami nel prosieguo della partita. Sì, sono contento, l'avevo un po' catalogata questa partita come quelle partite che durante l'anno ti rendi conto se puoi guardare una classifica migliore, se la squadra è cresciuta, se la squadra è consapevole che ora siamo un'altra squadra chiaramente, o se no gliel'avevo detto prima della partita. Se non vinci oggi rimaniamo nell'anonimato le altre otto partite e lottiamo per far prima i punti possibili per tirarsi fuori dalla bagarre. Il secondo goccia ci ha stroncato un po' in ole gambe, però non sono contento della prestazione. La squadra ha fatto una partita di sotto delle sue potenzialità, si è fatto, ritengo, due o tre passi all'indietro, per cui da martedì c'è da rimettersi al lavoro perché il campionato è duro e noi bisogna raggiungere la salvezza.